Il progetto Quadrifoglio per educare i giovani ad una corretta alimentazione, a non fumare e a curare l'igiene della bocca. Ecolandia per promuovere quelle competenze di vita così importanti per il benessere fisico, psichico e sociale. Questi progetti messi in campo dall'amministrazione comunale e dall'ASL Napoli 1 Centro per le scuole di Napoli. Interventi particolarmente importanti per una realtà come quella napoletana. Il 20% dei bambini infatti obeso, il 29% sovrappeso, il 90% dei bambini e ragazzi mangia quantità inadeguata di frutta e verdura. L'assessore all'educazione Anna Maria Palmieri parla dell'importanza della dieta fin dall'età scolare. La collaborazione con l'ASL Napoli 1 è stata sin dall'inizio molto fattiva, tant'è che noi abbiamo completamente rinnovato le diete della rifezione scolastica. Abbiamo iniziato una lotta all'obesità perché purtroppo siamo maglia nera dell'obesità infantile e vogliamo assolutamente invertire questo trend. Ci siamo cioè mossi nella direzione di coniugare educazione alla salute, educazione motoria, educazione alimentare e tutte le forme di sensibilizzazione all'educazione dei minori che possono veicolare indirettamente anche dei messaggi positivi ai più grandi. Il responsabile dell'educazione sanitaria dell'ASL Napoli 1 Centro, dottor Pio Russo Kraus, parla degli effetti della sigaretta elettronica. Io a un giovane direi di non fumare, perché il nostro progetto mira alla prevenzione del fumo. Noi ci rivolgiamo alla fascia di età che va dagli 11 anni ai 18 anni. Allora il pericolo è proprio questo, è che il ragazzo possa convincersi che la sigaretta elettronica è innocua e quindi iniziare a fumare la sigaretta elettronica. Mentre invece se un valore può avere la sigaretta elettronica per quelle persone che fumano molte sigarette e non riescono in nessun modo a smettere, allora come male minore si può prendere in considerazione. Ma se passa invece il messaggio che la sigaretta elettronica è innocua, cosa che non è assolutamente vera, allora c'è il rischio anzi che si aumenti il numero di ragazze che fumo e questo assolutamente non va bene.